buongiorno a tutti ragazzi bentornati su mega wow in una nuova edizione delle ptg come potete vedere siamo nel mio studio super professionale io ho il mio microfono la mia cravatta per attestare di essere un vero giornalista un massimo esperto delle tendenze dei più piccoli anche questa settimana mi sono dato da fare ho raccolto un po di notizie succulente per il periodo natalizio e non solo ma non perdiamo altro tempo e lanciamoci nei titoli della settimana titoli della settimana il calzettone rosa per le più fashion il giorno più colto dell'anno è arrivato natale ecologico e altri calzettoni per i veri amanti dell'action siamo in pieno periodo natalizio e so che non vedete l'ora che parliamo di calzettoni ed ecco qui per i vostri momenti fashion vi consiglio questi calzettoni momento fashion momento fashion esattamente così stiamo parlando del calzettone nanana surprise omg remix calzettone wow versatili rosa per tutte le età se non sapete cosa regalare questi calzettoni sono perfetti ma prima guardiamoci gli spot ma entriamo nell'angolo delle curiosità il 13 dicembre si festeggia santa lucia che si dice essere il giorno più corto dell'anno ma se state pensando di usarlo come scusa per non avere tempo per fare tutti i compiti vi state sbagliando perché non è vero in realtà il giorno più corto è il 21 dicembre cioè oggi che è il solstizio d'inverno il termine solstizio deriva dal latino ed è composto da sol che vuol dire sole esistere che significa fermarsi quante ne so per essere un giornalista e dal punto di vista astronomico il solstizio d'inverno è il giorno dell'anno in cui il sole a mezzogiorno passa più basso sull'orizzonte ed è anche per questo che fa freddo è incredibile ma andiamo avanti passiamo ai consigli per un ottimo natale ecologico ecco voi tre consigli per passare un natale pieno di felicità nel rispetto dell'ambiente uno indossate le mascherine in tessuto come quelle che vi ho fatto vedere tempo fa così non butterete via una mascherina usaggetta al giorno due fatevi regalare una borraccia così userete meno plastica quando andrete in giro tre scaricate app green che sono quelle app che ti ricordano cosa si può fare e cosa non si può fare di buono per l'ambiente già guardando le ptg siete un passo avanti ai vostri amici ma lanciamoci nell'ultimo blocco pensavate che ci fossimo dimenticati dei calzettoni pre maschietti e invece no ma perché parlo al plurale vabbè maschietti e appassionati di momenti action sono arrivati i calzettoni dei gormiti e dei power players e ve li racconto tramite un momento action maschietti e amanti dei momenti action sono arrivati i calzettoni dei gormiti e dei power players quindi potete scegliere se stare dalla parte di gorm o dei power players le notizie di oggi finiscono qui noi ci vediamo domani con un nuovo video un nuovo outfit perché domani non farò il giornalista a domani e mi raccomando seguite